Musica Secondo appuntamento settimanale dedicato a Fuoricorsa e allora oggi siamo come vi ho preannunciato a Castellare di Tonda in provincia di Firenze dove ci sta aspettando Nicole Fensi che andiamo a salutare con un suo ospite. Buongiorno, anzi con due suoi ospiti. Buongiorno e ben trovata Nicole. Cari amici di, grazie Emanuele, cari amici di ACU TV, oggi vi abbiamo portato in un posto davvero particolare. Siamo sulle colline fiorentine e siamo in uno di quei posti dove i turisti da tutto il mondo vengono per godersi il meritato relax senza farsi mancare quella che è la nostra passione comune, il mondo dei cavalli. Franco Vicky ben arrivato. Ciao, buongiorno. Franco Vicky è il responsabile della struttura, proprio si occupa di accompagnare i turisti nelle sue avventure ma soprattutto di gestire tutti i meravigliosi cavalli che abbiamo qua. Questa struttura, Franco raccontaci, parte come allevamento di quarter horse. Sì, parte, nasce dalla passione dei proprietari Stefano e Alessandro Scotti e è stata portata avanti negli anni partendo con un allevamento di quarter horse dato che il proprietario, sempre Stefano, è stato uno dei pionieri della Monte West, special modo del running agli arbori della Monte in Italia. Poi piano piano si è sviluppato il settore turistico dato che è un'azienda grande con 13 casolari eccetera eccetera. E quindi poi abbiamo portato avanti anche il discorso turistico, un'offerta variegata di un certo tipo. Abbiamo visto Franco questa mattina, insomma siamo arrivati in questo posto meraviglioso. Pensate, è un resort, una spa, ci si dedica ai cavalli, è un posto davvero da sogno e abbiamo visto Franco nel maneggio coperto occuparsi proprio della doma o della preparazione di un quarter horse di quattro anni Franco. Tu ti occupi di gestire i cavalli qua, di insegnarli il mestiere. Assolutamente, sì. Il mio compito è nella preparazione dei cavalli, sia quelli da performance, sia quelli che vengono usati sia per le elezioni che per la campagna, selezionandoli e preparandoli affinché possano avere tutti i requisiti necessari per lavorare in sicurezza e con una certa metodologia. Allora, partiamo proprio dal discorso quarter. Il quarter è un cavallo sportivo, Franco, è un cavallo che viene usato sostanzialmente per fare le gare. È un cavallo poco adatto invece a quelli che sono i percorsi turistici? Sì e no, nel senso che il quarter è un cavallo sportivo, ma ci sono delle linee selezionate apposta per ogni disciplina che si va a fare. Però c'è anche il cavallo da ranch, quarter, che ha altre caratteristiche naturalmente. Per esempio, nella patria di questa monta, in America il cavallo da ranch è il quarter horse, è un cavallo usato in maniera normale che lavora col bestiame e viene usato per tutto. Quindi, non necessariamente è solo per la performance, ma è anche un ottimo cavallo da campagna, eccetera, eccetera. Perché è un cavallo molto equilibrato e col quale si lavora molto bene, proprio grazie all'equilibrio che ha. È un cavallo equilibrato, cavallo con un carattere tra l'altro molto docile. Non sono nevrili, quarter horse, sono cavalli che si fanno gestire abbastanza bene. Deve avere una caratteristica particolare per essere scelto per andare in passeggiata. Noi siamo sulle colline toscane, lo ricordiamo Franco, e ci sono dei percorsi non troppo lineari. Sono delle discese, delle salite, anche proprio il fondo. Non è un fondo, come siamo abituati in erba o in sabbia, ma è un fondo con sassi, disconnessioni. Per cui ci vuole qualcosa di particolare, Franco? Ci vuole, stiamo attenti a selezionare i cavalli alti alla campagna, che abbiano una certa struttura, un piede di un certo tipo, una certa resistenza. Chiaramente, perché quelli, per esempio a differenza del cavallo usato per la performance, sono un pochino più delicati, hanno un piede più piccolo, uno stinco più piccolo. Quindi noi selezioniamo, ad esempio, quel cavallo che vedete, qui alla vostra sinistra, è un cavallo, è un quarter horse di otto anni. Avviciniamoci, Franco, così. E come potete vedere, ha una struttura di un certo tipo, non è il porterino, eccetera, eccetera. Guardate che bei piedi, guardate la proporzione stinco-piede, è un cavallo con una struttura di un certo tipo, che è in grado di sorreggere una tipologia di lavoro. E questi cavalli, mi dicevi, Franco, che sono adatti, diciamo, a un po' tutte quelle che sono i livelli anche, no, delle persone che salgono. Quindi se tu hai bisogno di un livello base, loro rispondono a questo? Assolutamente sì. Noi, dato che come azienda facciamo, abbiamo una proposta abbastanza variegata per il cliente, cioè partiamo dalla lezione di base, alla passeggiata, alla settimana a cavallo, ai bambini, alla settimana per i bambini, alla lezione più avanzata o addirittura arriviamo alla lezione di specialità. Quindi abbiamo una proposta ampia, abbiamo molto ampia. E quindi abbiamo anche la possibilità di avere diversi cavalli e per ognuno ha un utilizzo più o meno specifico. Ad esempio, questo che vedete, mascherone, grazie alla sua maschera, un nome un po' scontato, però i ragazzi l'hanno chiamato così. È un cavallo che è bravissimo sia per le lezioni che per andare in campagna anche con un bambino, cosa che noi non portiamo bambini, ma per dirvi anche con un principiante. Ok. Tu sei un uomo di cavalli, Franco, e lo si percepisce da come ti avvicini a loro. Quanto ci lavori con qualsiasi razza di cavallo, perché e soprattutto ogni quanto ci lavori per tenerli in una condizione psicofisica ottimale per saper gestire poi tutta la parte turistica? Sì, ad esempio questi cavalli, quelli che vengono usati per il turismo, passatemi il termine, come vedo e percepisco che il cavallo ha bisogno di essere rimesso per un atteggiamento magari che non mi piace tanto, eccetera, eccetera. Non aspettiamo di entrare, non aspetto di entrare dentro la problematica, ma anticipo, lo tolgo, lo metto al lavoro, lo alleggerisco, eccetera, eccetera, e poi viene rinserito. Per chi ci segue, Franco, e magari non è così dentro il mondo dei cavalli, come ti accorgi? Quali sono i primi segnali che un cavallo ti dà per capire se è stressato, se ha bisogno di un lavoro diverso o di uno stop? Allora, per quanto concerne lo stress, non abbiamo mai avuto di questo tipo di problema, perché i cavalli non vengono sottoposti quotidianamente a quattro ore di lavoro consecutivo. Dato che abbiamo la possibilità, abbiamo diversi cavalli, li facciamo girare. Quindi c'è una gestione precedente. C'è una gestione, è brava, è bravissima, è proprio lì il segreto, è la gestione di cui ne fai. Se certo prendi un cavallo che dalla mattina alla sera scende in uno, sale in un altro, è sottoposto a uno stress psicofisico, naturalmente. Qui non succede questo, proprio perché li facciamo girare. Cavallo stanco, per qualsiasi motivo, sente il caldo, eccetera, eccetera, non viene fatto lavorare, viene lasciato a riposo, eccetera, e poi viene inserito. Oppure, che ne so, per esempio, un cavallo che tiene due ore di lavoro in tutta serenità e tranquillità, fa quelle due ore di lavoro e poi viene riportato in padro. Avete una gestione ampia, io non so se vedete, insomma, le immagini mie di Franco, però siamo praticamente totalmente in mezzo ai cavalli ed io sono dieci minuti che faccio le carezze sul posteriore di questo, che non è poi una cosa così consueta, no? Sono cavalli abituati al contatto umano, cavalli che non hanno paura e sono tranquilli, si percepisce in questo posto la serenità degli animali. Avete dei box e avete tantissimi paddock all'esterno. Come scegli il cavallo che deve rimanere in box e quello invece che rimane fuori? Allora, posso? Certo! In box ci sono i cavalli che generalmente vengono preparati, hanno bisogno di essere addestrati, di essere seguiti un pochino di più. I cavalli, quelli che stanno fuori, che sono più liberi, diciamo, sono i cavalli che si usano prettamente, che sia fisicamente sono abituati a diversi climi, non subiscono il caldo, non subiscono il freddo, anche se hanno tutti i ripari, eccetera, eccetera. Quindi che non hanno problemi e stanno bene lì. Quindi li lasciamo fuori e li andiamo a prendere, li selliamo, li utilizziamo e poi ritornano liberi, hanno il fieno quanto vogliono, hanno l'erba, hanno tutto quello che necessita. Qual è la difficoltà maggiore nell'entrare Franco in connessione con i turisti? Ricordiamo che i cavalli sono animali, vieni pure Franco, sono animali che hanno uno scambio con l'essere umano e spesso e volentieri, soprattutto per la concezione di oggi, si pensa al cavallo come un mezzo di trasporto e non più come un animale con il quale collaborare e dialogare. Ecco, come fai tu, magari a una persona che viene per vivere un'esperienza equestre, che non ha mai visto un cavallo, non è mai salita su un cavallo, come riesci a spiegargli che ci vuole rispetto e a dargli questa connessione? Eh, hai toccato un punto fondamentale perché ho un problema che c'è, no? E quindi io e il mio staff, le persone che arrivano, se sono neofiti è ancora più semplice perché è un terreno verde, fertile, con cui ti puoi mettere subito le nozioni giuste, eccetera, eccetera. Peggio è quando arrivano le persone che tanto tempo che montano, montano in una certa maniera, ad esempio solo con la forza e cercano un insieme, ma c'è solo un uso, un uso, un uso sbagliatissimo, proprio nella comunicazione, nella sensibilità che una persona dovrebbe avere avvicinandosi a un altro essere, al di là che sia un cavallo, ok? Quindi cosa faccio? Cerco tutto il lavoro che facciamo noi, è quello di aprire una finestra sulla conoscenza, con nozioni di etologia, come ci si avvicina, il perché di una cosa, il perché di un'altra, così a formare un attimino una sensibilità nei confronti di questo animale. Poi chiaramente nella lezione non vengono mai permesse certe cose, se andiamo a tirar fuori quello che è di ogni persona, quello che può è l'andare a sentire le cose, no? Non è solo esempio, prendo due red, mi tiro, no, assolutamente, parti piano, dolcemente, senti, e poi ci sono vari esercizi che faccio fare per mettere le persone dentro la cosa e aiutarle a sentire. E di conseguenza poi quando le persone hanno sentito, bom, è come gli si apre una finestra, perché hanno sentito, sono state messe nella condizione, e quindi gli scatta il meccanismo di cambiare qualcosa, cioè qualcosa che fino adesso non andava. Questo facciamo. Beh, insomma, non è poco, Franco. Grazie. È veramente forse la chiave di tutto, no? Ma non parliamo solo di quarter horse, cavalli spagnoli abbiamo visto, siciliani, il cavallo è cavallo, puro sangue, trottatore, cavallo è cavallo. Assolutamente. Allora adesso invece vorrei che tu ci spiegassi, noi vediamo qua, su questo meraviglio che ci sta sopportando, veramente lo ringraziamo, una fantastica sella americana, che sono i finimenti, cioè voi qua per le passeggiate, per le vostre lezioni usate i finimenti americani. Ci spieghi il perché? Allora, noi siamo un centro di Montagueste. Ok. Quindi chiaramente la nostra sella è una sella western, che nasce da un contesto storico, dove la sella, ci serviva una sella sulla quale ci dasse una praticità di un certo tipo. Comodità anche. Anche una comodità, però non mi piace usare il termine comodità, perché sembra che sia una cosa solo per noi. No, io sto comodo e invece no, chiaramente no, deve andare bene per il cavallo, eccetera, eccetera. Torniamo indietro alla connessione, no? Esatto, bravo. Quindi il pomo, ad esempio, questo lì che si chiama pomo, ecco questo serviva perché quando si lavora con il bestiame, ti ci leghi una corda, viene preso il vitello, viene tirato qui, viene bloccato, eccetera, eccetera. Per esempio, ok? Quindi nasce in un contesto che serviva una sella, concepita in una certa maniera proprio per il lavoro quotidiano di tutti i giorni. Infatti se guardiamo ora, non possiamo alzarla, però qua sotto abbiamo uno strato molto alto di vitellino, proprio per ammorbidire soprattutto le sedute del cavaliere su quella che è la schiena del cavallo. Sono selle molto comode per entrambi. Esatto. E anche proprio fatte perché il cavallo soffra. Assolutamente sono concepita apposta, devono essere comode per il cavallo. Difatti se guardate, ci sono tre cavalli, hanno tre selle diverse. Per ogni cavallo, per esempio, non metteremo mai una sella con un arcione basso su un cavallo con un garese alto, perché nel movimento poi andrà... Facciamola vedere, visto che possiamo muoverci, arriviamo al... come si chiama? Reia. Reia. Lui che razza è? È una femmina, è una cavalla indigena, una mezzosangue, che proviene dalla Sicilia. Ok. E qui che sella usiamo? Qui è un'altra sella west, come vedete è un'altra conforma... Chiaramente, vedete, sembrano tutte uguali, ma in realtà non lo sono. Non lo sono. Perché addirittura dal disegno del seggio cambia la seduta, come ci stiamo sopra, come ci fa lavorare sulle gambe, come entriamo dentro col bacino, eccetera, eccetera. Questa è una sella per questa cavalla, perché è una cavalla più grande, con un tronco più grande, eccetera, eccetera. Quindi questo spazio doveva essere maggiore per non creare pressioni da nessuna parte, per esempio. Andiamo avanti e vediamo quest'ultimo meraviglioso cavallo. Intanto Franco raccontaci chi è, come si chiama, che bello. Allora, questa è... Noi la chiamiamo la bionda. Va bene, chiaramente non c'è stata molta fantasia, ma è perché è così. È una cavalla per la campagna, veramente una cavalla molto forte, molto atletica, anche nonostante la mole, che ci permette di lavorare in sicurezza con tutti, come anche gli altri. e questa sella, a differenza delle altre, ha un'arcione un pochino più alto, ha un'arcione più alto per quello che abbiamo detto prima, proprio per la differenza di Garese che ha la cavalla. Quindi una sella con un arcione basso, salita e discesa, farebbe pressione sul Garese, fiaccandola e creando notevoli problemi. Creando dei problemi e non rendendola neanche comoda, nel quale la passeggiata. Assolutamente, assolutamente. Fra tutti i cavalli che tu hai qui, che poi sono quattro, ma ce ne sono veramente tanti, lei ha un occhio acceso, ha un occhio vivo? Eh, lei ha un occhio... Brava, hai colto un particolare importante, brava. Brava perché è anche un po' birbantella questa cavalla. Eh, si vede. Sinceramente, cioè nel senso che è una di quelle che è paciosa, ma se la cerchi la trovi. Si vede, rispetto anche agli altri. Bravissimo. Si vede, Franco, assolutamente. E questi sono quattro, insomma, dei cavalli che voi usate per fare lezione e per andare in passeggiata, corretto? Assolutamente. Questi sono rientrati venti minuti fa. Per la passeggiata. E sono qua tranquilli, tranquilli, pacifici, proprio per... in attesa, insomma, di avere altri ospiti. Allora, Franco, noi... Io ti faccio una domanda. Vi dico subito che l'appuntamento con Franco sarà nell'ultimo collegamento e vi faremo vedere qualcosa di speciale. lo preannunciamo. C'è un quarter di due anni che è stato... è arrivato una settimana passata e verrà messo in doma e con questo faccio il primo avvicinamento. Vi faremo vedere come si fa il primo avvicinamento. Un cavallo è arrivato una settimana fa, attenzione, quindi vi faremo vedere qualcosa di davvero particolare. Però questa prima parte intervista la voglio concludere chiedendoti qual è la cosa che più ti ha colpito che ti ha detto un turista dopo aver vissuto una settimana, una giornata, insomma, una vacanza con te? No, sinceramente è gratificante perché proprio per quello che abbiamo detto prima, quando riesci a aprire una finestra, a installare un rapporto, a far capire delle cose, è un po' quello che dà il senso, no? A quello che fai. E non sei... E quando... E quindi questo è molto gratificante. In genere veniamo ringraziati, c'è un ringraziamento, ma la cosa più bella non è il grazie, ma proprio la consapevolezza che la persona ritorna, richiede dei corsi specifici per chi ha capito. E quello che mi auguro è quello che anche quando arriverà a casa, che tornerà a casa sua, nel suo centro, eccetera, qualcosa cambia, ok? Se siamo riusciti a mettere le cose giuste. E questo penso che sia un bene per i cavalli e per l'acquittazione in generale. E soprattutto per le persone, perché imparare ad entrare in connessione con un animale, che sia un cavallo, che sia, insomma, qualsiasi altro animale, insegna ad entrare in connessione poi con le persone, a volte anche con se stessi. Assolutamente. E troppo spesso, insomma, non lo si fa. Io non so se Emanuele ha voglia, ha qualche curiosità per noi e per Franco. È un personaggione Emanuele. Assolutamente. Guarda, l'ho ascoltato con molta attenzione e traspare proprio questa grande passione che poi è la base, secondo me, di un lavoro del genere. Sono lavori che vanno di pari passo con una grande passione che è emersa in questa presentazione. Quindi, complimenti, Nicole. Ci sentiamo fra poco perché ti lasciamo preparare per il prossimo collegamento. Il prossimo collegamento vi porterò due occhi azzurri meravigliosi. Preparatevi. Franco, grazie a troppo. Grazie. Grazie ancora a Nicole e al suo ospite. Lì nella regia ma torneremo subito in diretta per parlare di Tris. Pronti a tornare da Nicole Fensi che ci sta aspettando sempre da Castellare di Tonda con un nuovo ospite. Ben ritrovata, Nicole. Ciao Emanuele, ben trovata a te e agli amici di EcuTV. Vi avevo promesso due occhi azzurri. Bene, eccola qua. Elsa Wakeman, la responsabile della parte turistica di questa meravigliosa struttura. Oltre ai due occhi azzurri meravigliosi di Elsa vi abbiamo portato i due occhi meravigliosi marroni di... Wimpy. Wimpy. Allora, è un quarter? Assolutamente, sì. E' nato da noi. E' all'età di? A 12 anni. Wow. Allora, Elsa viene dall'Inghilterra. Elsa, intanto raccontaci qual è stata la spinta per farti arrivare qua e per non tornare più a casa poi. Assolutamente. Allora, sono arrivata in Toscana proprio in queste zone nel 2009. Dopo un periodo di sei mesi mi sono accorta che mi sono trovata veramente bene qua per diversi motivi ma uno essendo la campagna meravigliosa intorno a noi. Sono un grande amante della campagna e mi sono ritrovata veramente bene qui e quindi dopo un anno la mia mamma mi disse secondo me non torni più. No, ho detto mamma, vediamo. è stato così per un paio di anni affinché mi sono reso conto che questo era un posto in cui volevo rimanere. L'Inghilterra è la casa dei cavalli e ci sono cavalli dappertutto. Assolutamente, sì. hai lasciato la tua patria ma sei rimasta con quelle che sono le tue origini e la tua passione più grande. Assolutamente. L'ho seguito un pochino e l'ho lavorato con i cavalli in l'Inghilterra e quindi facciamolo girare così facciamo vedere vuole vedere il ponino vuole vedere che succede quindi lo lasciamo lo lasciamo fare. E quindi sei arrivata qua e hai continuato diciamo a lavorare con il mondo dei cavalli. Assolutamente qui sì allora io ho iniziato a lavorare Castellari di Tonda nel 2012 ho fatto la prima stagione in cui ho conosciuto il trainer Franco sono sempre rimasto in contatto con lui abbiamo poi quattro anni fa ho deciso c'è stata un'opportunità per tornare qua ho deciso di ritornare a tempo pieno insomma quindi quindi ormai sei fai parte del team di Franco assolutamente un team composto da tutti i ragazzi giovani Elsa giovani sorridenti si respira una bella energia in questo posto ve lo posso garantire spero che arrivi anche a casa quello che insomma stiamo vivendo il settore turistico assolutamente non sono moltissimi posti che si occupano così a 360 gradi di turismo equestre ne abbiamo parlato con Franco Elsa voi partite dalle lezioni quindi dalle lezioni in campo per far capire anche ai neofiti come ci si approccia ai cavalli fino ad arrivare a organizzare delle passeggiate anche di un giorno intero assolutamente assolutamente allora noi abbiamo una grossa gamma di servizi insomma mettiamola così per tutti i livelli ok ovviamente principianti devono imparare le basi ok sicurezza in selle come si comunica in maniera corretta con questi meravigliosi animali e ve lo sta dimostrando in diretta lei sta comunicando con questo meraviglioso animale che si sente protagonista e quindi invade un po' gli spazi vorrebbe sì mangiare un po' di erba che lo puoi fare se mi lasci un po' di spazio ecco e quindi sì partendo con lezioni di base ok facciamo lezioni anche per gente con più esperienza e passeggiate come dicevi tu Nicol ovviamente per fare una passeggiata giornaliere uno deve avere già un bel bagaglio di esperienza a cavallo ok quindi sono passeggiate per gente che stanno già bene molto bene in sella ok montano da più anni ok quindi un livello intermedio diciamo invece per persone con meno esperienza o addirittura nessuna noi abbiamo questi spazi belli e molto comodi tipo il fondino ok che è un posto dove lavoriamo molto con i bambini un posto chiuso siamo in sicurezza lì loro possono imparare innanzitutto la posizione no corretto uso degli aiuti tutta sicurezza una volta che un bambino ha ha capito questi questi punti possiamo montare giù nel campo grande per dire quindi questi spazi qua ci consente di la principale l'uso noi primo approccio ai cavalli da persone che invece hanno una vita di esperienza a cavallo e vogliono fare lezioni in monte western o passeggiate fuori in questa bellissima campagna quali sono Elsa le paure maggiori che ti comunicano le persone che vogliono imparare ad andare a cavallo ma che non sono mai salite allora interessante i bimbi facciamo una parliamo di bimbi e adulti dai ok bimbi possono mostrare tensione o ansia all'inizio di solito può essere molto più facile passare questa iniziale paura che devo dire è anche ragionevole non sono animali grandi un bimbo è piccolo ok quindi un iniziale tensione timore che è molto bene nel linguaggio del corpo come sa qualcuno di solito ai bimbi li passa anche in maniera di minuti un adulto invece può essere molto più temoroso ci può volere un pochino più tempo per farli sentire al proprio agio in sella ok però questo fa tutto parte del nostro lavoro andiamo al passo delle persone che abbiamo in sella e questo fa proprio parte bisogna sentirsi tranquilli e che abbiamo siamo in controllo della situazione quindi una lettura psicologica anche proprio dell'atteggiamento che le persone hanno è un lavoro a 360 gradi siete molto attenti a tutto prima ai cavalli e ce ne ha parlato Franco egregiamente poc'anzi e poi alle persone assolutamente sì assolutamente è un lavoro posso parlare assolutamente per me con i cavalli ma con il pubblico e con il pubblico quindi leggere le persone anche intuirle che può essere non così facile quando non li conosci noi non lavoriamo con persone per tanto tempo abbiamo forse al massimo due settimane ok e quindi leggere intuire magari le cose tra le righe può essere sì una sfida all'inizio ma viene fuori di solito di solito riesco ecco di solito riesco a capire se qualcuno si sente bene se non si sentono bene invece che cosa ha bisogno quella persona e nella lettura della persona Elsa scegli anche il cavallo più adatto a lei quando arriva una persona vicino a te tu provi a leggerla assolutamente ti viene subito in mente il cavallo sì allora quello ovviamente i cavalli sono noi conosciamo i nostri cavalli benissimo dentro e fuori sono le persone che non conosciamo quindi può succedere che possiamo dire ok abbiamo fatto una lezione con questo cavallo oggi domani facciamo con quest'altro magari vorrei lavorare su qualcosa diverso con quella persona magari io vedo che dopo la prima lezione la persona si sente bene ma non al 100% ok allora lo stesso cavallo è rassicurante quindi viene fatto in base a sì le persone che le deve montare ma anzitutto il cavallo noi conosciamo i cavalli molto bene sono le persone che c'è di capire valutare e puoi fare l'abbinamento giusto ok esatto abbinamento ottimo Elsa il tuo italiano è perfetto era preoccupatissima di non riuscire a parlare correttamente Elsa invece sei ti ringrazio del complimento sei perfetta quindi abbinamento cavallo-cavaliere è fondamentale raccontami invece la cosa più pazza quella più particolare la più bella la più brutta che ti è successa durante insomma una passeggiata allora wow ci devo pensare allora per fortuna posso dire non vorrei tentare la fortuna cose brutte non mi sono successi ok ci può succedere qualcosa ma c'è sempre ma c'è sempre una soluzione e trovo un modo di uscire cose belle molte tante allora una volta accertato che la la persona sta bene in sella possiamo andare a fare una bella passeggiata allora lì diventa veramente una scoperta per me alla persona lì hai più tempo ok per conoscere mentre accompagni queste persone in giro sempre in sicurezza magari con qualche nozione anche della storia locale della flora della fauna quello che devo dire una cosa in particolare non mi viene in mente in questo momento però devo dire portando diverse persone parlando lì è un momento in cui uno qualcuno magari apre e ti racconta anche la storia della propria vita o qualcosa del genere e anche semplicemente io ho imparato tantissimo su diverse cose che non avrei mai magari non avrei mai avuto la possibilità di avere quella conversazione perché ti incontro proprio di tutte le cioè di tutta la nazionalità tutte le età insomma per portare un esempio ho moltissimo le piante ok conosco abbastanza bene i nomi le specie e tutto il resto ma io ho imparato tantissimi diversi specie identificare altri da clienti proprio che mi dico guarda quello è che poi alla fine quello che mi viene in mente l'unico comune denominatore di questo mondo e di questo vivere è comunicazione e scambio uomo cavallo e anche tra le persone assolutamente energia anima assolutamente assolutamente Elsa abbiamo finito visto è ripreoccupatissima invece e invece siamo arrivati alla fine non so se Emanuele vuole salutare i nostri occhi azzurri e meravigliosi prima di dare la linea assolutamente ci ha raccontato tante cose interessanti Nicol e a te ti ritroveremo presto fra poco per una decina di minuti per un nuovo collegamento con un nuovo ospite Sì Emanuele Sì Emanuele grazie allora io e chiudiamo questo collegamento con vi faccio vedere cioè questo è il meraviglioso affaccio che noi stiamo vedendo amici di AQTV tra poco grazie Emanuele grazie a Micol Fensi e allora lei è in regia ma subito torneremo per parlare di Tris di nuovo in diretta e pronti a tornare dalla nostra Micol Fensi a Castellare di Tonda ben ritrovata Micol grazie Emanuele ben trovato a te allora vi avevamo promesso un ultimo collegamento di quelli davvero forti e noi siamo sì a Castellare di Tonda all'interno di questo tondino abbiamo il nostro Franco con un quarter horse di meno di due anni Franco intanto che è stato maneggiato solo tre volte raccontaci che cosa stai facendo e insomma il tuo modo di avvicinarti a loro questo è un puledro di quasi due anni è arrivato la scorsa settimana e quindi andrà messo in doma per essere poi per fare un'iter di addestramento adesso faccio vedere la prima fase cioè cerco di instaurare una relazione con lui per capire per capire con che ho a che fare e per capire quanto dove devo lavorare per renderlo più tranquillo eccetera eccetera ma dalla prima fase questa relazione che cerco già inizio a mettere le prime cosine che mi sono poi indispensabili nel lavoro futuro i primi puntini sul legno i primi puntini sul legno quindi adesso lo libero generalmente lavoro col cavallo in libertà lo libero e lo lascio fare adesso lui annusa è tranquillo inizio a mandarlo ok il cavallo si guarda attorno chiaramente è un puledro ci sono tutti i fattori esterni che lo distraggono e io in questo momento se lui vuole correre corre è libero di fare tutto ciò che vuole cioè lo lasci sostanzialmente proprio libero di esprimere esatto e in questo momento cosa valuti Franco innanzitutto valuto il suo movimento come si muove che atteggiamento ha nei confronti delle cose ok cosa vedi adesso qual è il suo atteggiamento è un atteggiamento molto positivo perché il cavallo sembra vedi che guarda fuori gira la testa eccetera eccetera ma in realtà nel contempo è molto attento anche a me è molto attento anche se vedi adesso lui va in distensione quella è una cosa molto positiva ok adesso io come vedi sto girando insieme a lui sto girando sto lavorando con lui inizio a lavorare un pochino con un pochino passami il termine di pressione cioè in questo momento e lui ti risponde benissimo Franco come scusami lui ti sta rispondendo molto bene assolutamente sì ma di fatto ha già sentito quel lavoro quelle tre volte che è stato maneggiato e lo dimostra il fatto che hai già riferito a me ad esempio per dimostrarti questo vedi io rallento e lui ta e lui si ferma all'altezza della mia spalla perché ha imparato a conoscere il movimento del mio corpo a leggere il mio corpo non voglio che venga da meglio gli ho detto vai e lui vuol giocare è uno stalloncino perché il suo primo istinto sarebbe stato quello di raggiungerti invece no il suo primo istinto era quello certo perché l'ho abituato perché io per lui sono diventato quello che dicevo prima un punto sicuro un bel riferimento un riferimento positivo questo è quello che voglio io per lui devo essere un amico un confidente non qualcosa che i cavalli eccolo qua vedete ti sei fermato e lui adesso sta arrivando da te i cavalli vogliono un leader hanno bisogno di avere una figura eccolo che meraviglia hanno bisogno di avere una figura di riferimento che gli dia anche degli ordini assolutamente cioè in questa fase la cosiddetta leadership esatto io non ci tengo tanto in questa prima fase avere una leadership voglio un contatto un contatto giusto nel senso lui per esempio dal primo giorno si è dimostrato molto un cavallino disponibile disponibile attento presta molta attenzione tra l'altro per essere un puledro che hanno poca capacità di attenzione bisogna essere bravi a mettere quello che vuoi in pochissimo tempo cogliere l'attimo giusto eccetera eccetera lui ha dimostrato di essere un cavallino molto disponibile quindi non c'era bisogno di prendere tutta questa leadership o cose di varie lui è è un cavallino che cerca già da solo vedi adesso questo è il classico atteggiamento dello stalloncino come fanno tre puglieri giocano si tirano su rampano si mordicchiano eccetera eccetera chiaramente io questo non lo voglio perché poi in seguito a sella di quello che adesso è un gioco può diventare un atteggiamento negativo ma in questo momento glielo concedo in libertà può fare tutto quello che vuole entro certi parametri chiaramente ok lo rimandiamo per dare l'impulso generalmente scusate prendo questa mi avvalgo di una longe queste sono le longe più lunghe ecco non è una lunghina semplice ma è proprio una longe per girare i cavalli viene usata sia con i puledi che con i cavalli invece della fusta uso questa per mandarlo lo mando tanto si abitua a cose che arrivano eccetera eccetera aumento come vedi inizio a lavorare con lui mi giro e lui rallenta chiaramente lui rallenta bene Franco ci spieghi anche quanto è importante tu prima hai parlato all'altezza della mia spalla e nel mondo dell'equitazione dell'ippica dei cavalli il bravo artiere si vede quando cammina proprio alla spalla del cavallo ci spieghi perché è una questione di sicurezza di contenimento perché qui siamo in grado di fermarlo se c'ho il cavallo davanti e dici di andare via non riusciremo mai a fermarlo proprio una questione di sicurezza ok 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 passata questa prima fase vedete adesso ha preso l'alongia atteggiamento dell'alongia che fa il berbantello ok non lo punisco niente queste sono bischiratelle che in questo momento gli devo concedere perché se adesso vado lì faccio così o aumento il movimento lo impaurisco io non voglio in questo momento anzi non lo voglio mai ma gli farò capire poi quello che si fa o quello che non si fa in questo preciso momento non gli do così tanto importanza ma metterò a fuoco giorno dopo giorno tutte le cose tra virgolette negative che possono nuoscere e vengono tolte con lo schema di lavoro quindi la collaborazione una collaborazione brava ok l'ultima raccomandazione prima di lasciare questo posto meraviglioso Franco una raccomandazione a chi insomma chi vuole avvicinarsi al mondo dei cavalli sì raccomandazione vedete il cavallo torna sempre da me quindi cosa vuol dire è una cosa logica che io per lui non sono una cosa così da avere paura è fiducioso nei confronti dell'uomo questo dovrebbe essere per tutti i cavalli è importante il primo apporcio la doma sono cose che se sbagliamo qualcosa il cavallo ne paga le conseguenze per tutta la vita ok quindi è importante poi c'è le metodologie sono diverse ognuno fa le sue per me va tutto bene fino a che rientra nei parametri del benessere del cavallo nella consapevolezza che l'uomo che lavora insieme a lui deve cercare sempre la finalità è di essere un insieme mai io uomo del cavallo sì c'è la differenza ma dobbiamo andare insieme divertirci insieme crescere insieme e riuscire a fare delle cose tecnicamente difficili avremo tanto da fare e il bello è quando vedi un binomio essere riuscito a tirar fuori una collaborazione dal cavallo non solo un'imposizione questa è la mia finalità è un po' la mia filosofia di lavoro ok avete visto anche questi cavalli che si usa per il turismo quanto sono tranquilli quanto sono sereni quanto sono riferiti alle persone quando li vedete montati sono sempre attenti alle persone questa è una cosa molto importante e voglio che quando salgo sul cavallo il cavallo sia attento a me collaborazione scambio comunicazione questa è la collaborazione va bene non vogliamo un cavallo che prenda iniziative che possono essere nocive ma se ho un cavallo che è attento a me che gli ho insegnato ad aspettarmi che gli ho aspettato in una maniera migliore per tutta la vita e riesco a mantenerlo sarà un cavallo che posso dare a tante persone sarà un cavallo sereno che sa gestire anche gli imprevisti che non si spaventa specialmente specialmente negli imprevisti perché un fattore esterno in quale il cavallo si spaventa eccetera eccetera la sua reazione sarà sicuramente inferiore a quella di un cavallo che è solo con se stesso Franco io torno a trovarti promesso perché voglio ancora conoscere un sacco di cose per EQTV è stato davvero un onore averti qua e averci insegnato poi quelle che sono le basi del mondo dei cavalli collaborazione condivisione nessuna coercizione ma solo tanta comunicazione grazie mille grazie a voi grazie davvero Emanuele bene bene allora siamo arrivati alla fine di questa fantastica mattinata non abbiamo parlato di Ippica abbiamo parlato comunque di cavalli che sono poi il cuore pulsante del nostro canale e la passione che accomuna tutti noi e tutti coloro che ci seguono ti abbraccio ti restituisco la linea e da Castellare di Tonda provincia di Firenze a Montaione è davvero tutto grazie Michele grazie soprattutto per le splendide parole proprio di amore per il cavallo che abbiamo sentito proprio in questo ultimo collegamento ma nel corso di tutta la mattinata e questo deve essere proprio il leitmotiv del rapporto tra uomo e cavallo in ogni sua fattispecie poi grazie ancora a Michele Fensi abbiamo concluso questo collegamento mattutino in fuoricorsa adesso possiamo andare a parlare nuovamente di Tris grazie a tutti